Quando oggi sarebbe stato un atto dovuto, un interrogatorio di garanzia, abbiamo convenuto invece di rendere interrogatorio presso il pubblico ministero, stamattina acquisiamo le carte, abbiamo presentato istanze di esame, del resto ve lo sapete meglio di me, io non mi debbo difendere da accuse tipo ha comprato slip, champagne, profumo, ha fatto spese in Brocchi, debbo difendermi da una contestazione con la quale mi si dice praticamente che io ho investito i soldi del Consiglio regionale del gruppo per sostenere l'attività politica di Nicola D'Amo e non l'attività del consigliere regionale Nicola D'Amo, insomma è abbastanza eloquente, sul divieto di mora mi pesa ma lo sopporto, lo sopporto perché non mi impedisce comunque di fare politica, da Roma magari si fa meglio. Visto che parlerei della politica, a Roma in queste ore si decide anche come sarà formata la nuova giunta? No, quella non è competenza mia, no, quella è competenza del Presidente dell'Aggiunta regionale, quella è competenza del Presidente dell'Aggiunta regionale, non l'ho mai stata competenza mia. Grazie.